C'è qualcosa di spettacolare, unico, praticamente si vede che manca l'aria, non so, c'è tipo una specie di grande polvere, bellissima Oddio, l'ho trovata, oddio il 3.000 metri di artezza posso pure tornare indietro, ho trovato la pianta che se c'erano i ketchup Oddio c'era ragione Lorenzo, era tantino che diceva di nuovo, eccola, se c'erano i ketchup E' vero, effettivamente il 15 di 16 è vicino, se c'erano il 15 di 16 è preparare le bustine per il 20, 21, così Se c'erano i ketchup